L'incontro nella Sala Verde della città della regionale è stato definito epocale perché per la prima volta la regione Calabria si sta dotando di un piano paesaggistico che consentirà di valorizzare ciò che diamo per scontato, ossia la bellezza degli 800 chilometri di costa con i borghi caratteristici, il colore mutante del mare, il foliage dei boschi d'autunno che incanta i visitatori e ancora i tanti paesi custodi di storie arroccati su monti e colline che potrebbero narrare nenie nuove e antiche. L'Europa scopre la nostra terra e dal Ministero dei beni culturali l'attenzione è alta, lo dice con chiarezza l'assessore alla pianificazione territoriale Franco Rossi, illustrando ai comuni e alle associazioni lo strumento che mira a tutelare un bene immateriale, qual è il paesaggio. Abbiamo approvato il quadro territoriale regionale con valenza paesaggistica, oggi presenteremo i piani paesaggistici d'ambito, il che significa la rieposizione di vincoli su tutto il territorio. La vincoli in termini positivi, non in termini negativi, cioè di valorizzazione del territorio, una politica importante della regione Calabria, quella della valorizzazione dei paesaggi, della sua bellezza, della sua qualità, un paesaggio che è rivolto all'accoglienza, alla multiculturalità, quindi un paesaggio che può essere la chiave di volta per lo sviluppo della regione. Fase di informazione in cui i territori possono incidere con proposte e suggerimenti in maniera diretta, ma come è strutturato il piano paesaggistico. È costituito per norma da 16 piani d'ambito, ognuno che definisce un territorio omogeneo e che accomuna tutti i comuni e tutti gli enti che insistono sullo stesso, che hanno la stessa peculiarità.